scusa chi ho beccato non si dice chi ho beccato non si dice non si dice non si dice non si ecco ora ora ha più senso sta cosa non si ah mi stanno già facendo i gen qua ragazzi ciao pasta frolla qua mi stanno già facendo i se sto dietro a lui eh vabbè vedrai dopo vabbè puttana c'ho le donne sta troia che si questo ce lo leviamo eh ho iniziato adesso ho iniziato adesso oh non c'è il pallet lì eh mi spiace ecco zio fregato fregato o fregata se si si minchia minchia che cazzo è andata sta troia minchia strozza gallo bravo bravo no no è proprio il mio killer lui mi spiace non ciao zed eh scusa non volevo mi stanno facendo tutti i gen ragazzi cioè mi stanno facendo tutti i gen tutti eh mi stanno facendo tutti i genitori sono non mi stanno facendo tutti i genitori non mi stanno facendo tutti i genitori ma Ti cazzo Ti ti begga, ti begga aaaaaaah aaaaaahh aaaaaah 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 Sì, sì, ti begga, ti begga, vai. Un bel premade, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Malta. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. ti insulto, sì, 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 nice. max colai era max colera colera era italiano ah ma era lui dai perché ha messo il mori no era senza mori il lenzuolo lenzuolo ha fatto zeroncini o sbaglio si zeroncini oddio mannaggia ho comunque sentito il faminare da qualche parte sto tipo metto ogni tanto in live cerchiamo di incazzato testine buonanotte benny si è il fantasma che abbiamo giocato ma lui mi chiama sempre colera non so ha fatto neanche un'uncinata ehi cazzo me ne trega